Baciottoli. Basta usare le mie interviste per il film Samariz comunque. Hai ragione. È già pronto in postazione il nostro talent, a cui facciamo un grande applauso. Ciao. Allora come ti chiami? Io sono Luigi. Ah Luigi. Da dove vieni? Sono siciliano ma vivo a Roma ormai da nove anni più o meno. Da nove anni. Che lavoro fai? Sono uno speaker e poi dico tante cose più o meno. Non lo so neanche io. Speaker radiofonico? No magari un giorno, per adesso solo eventi. Nella vita. Lui parla nella vita. Ah sì sì. Ah lui parla. Oppure alle macchine a scontro. Ehi allora. Prima dei giochi. Gettonarsi alla cassa. Mettete il gettone. Anche quello vale. Qual è il tuo talento? Allora io ho un talento in particolare. Non ho mai studiato le lingue. Per esempio l'inglese, il francese, lo spagnolo. Però riesco a tradurre parole, frasi. Senza aver studiato? Mai studiato. Ma facciamo un piccolo testo. Cominciamo dall'inglese. Allora il livello di inglese tuo com'è? Massimo, incredibile. Madrelingua. Madrelingua. Allora. Prima domanda. Allora il cognome tipico inglese? Qual è? Li. Li. Esatto. Allora traduca. Ancora. More. More. Ok. Toccare. Touch. Perfetto. Allora componga una frase con le parole che abbiamo appena detto. Le tre parole in inglese. Una frase. More. More. Touch. Sì. La frase. Mi portacci su. Beh beh beh. Insomma ho già capito. Poi. Andiamo avanti. Traduca. Ecco. Come? Traduca ancora. Allora. Il signor Jackson è una persona dalla quale stare alla larga. Michael Jackson. Esatto. 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 Bravo. Vedi, vedi. Senza studiare. Traduca ancora. Sta andando benissimo. Allora. Grazie. Allora. Traduca. Romina. Accendi lo stereo. Romina power. Beh. Ancora, ancora. È bravo, è bravo. Paolo è un uomo nuovo. Paolo è un uomo nuovo? Sì. In inglese? In inglese. Paul Newman. Beh, 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 beh. Fantastico. Fa giusto una spagnola. Allora. Dobbiamo chiudere. Eh ma pochissimi secondi. Guarda. Solo una spagnola. Velocissima. Allora traduca. Allora. Chica. Chica ragazza. Ecco. Ciao. Ciao. Hola. Hola. Corazon. Le sei e mezza. Le sei e mezza. Esatto. 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 Bravissimo. Bravissimo. Grazie mille. Come ti troviamo su Instagram? Luigi Margio. Luigi Margio. Bravissimo. Luigi Margio. Non rispondete. No. 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 Grazie. Bravissimo. 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 Divertettissimo. Grazie al nostro pubblico. Grazie.